Questa unità didattica è dedicata al concetto di meta-interprete. Un meta-interprete prolog è un interprete prolog scritto in prolog. Che senso c'ha scrivere in prolog un interprete prolog? Non avrebbe di per sé senso, perché quello che farebbe l'interprete prolog implementato in prolog altro non è ciò che farebbe l'interprete prolog originario, però quello che stiamo a prevedere ci servirà da base per costruire in prolog per implementare in prolog teore improver più complessi dell'interprete prolog stesso. Per esempio quello che utilizzeremo per implementare il ragionamento abduttivo cioè il ragionamento diagnostico nella prossima unità didattica. Vorrei però partire da lontano. Supponiamo di avere un programma prolog già consultato e lanciamo un goal. Ovviamente il prolog ci risponde come sappiamo bene. Però noi potremmo pensare di fare un qualche cosa di simile utilizzando l'univ, cioè il goal potremmo volerlo costruire come fosse un termine partendo dal nome del funtore e il nome dell'argomento che gli abbiamo voluto dare e ho degli argomenti. E cioè noi possiamo costruire un termine che assomiglia al goal che vorremmo lanciare. Assomiglia perché a rigor di logica, è proprio il caso di dirlo, questo che abbiamo fatto adesso, costruito con l'univ, essendo l'univ un predicato built-in del sistema che ha due argomenti e i due argomenti sono una variabile e una struttura, in questo caso una lista, ciò che fa semplicemente è associare alla variabile un funtore, un termine che ha un funtore dato dal primo elemento della lista che ha la sua destra e in tanti argomenti, quanti sono i restanti elementi della lista alla sua destra. Questo è un concetto che abbiamo visto a suo tempo in prologue quando abbiamo presentato i predicati built-in del prologue. Ora ci viene in mente, ci viene voglia di poter costruire un predicato, un goal, come se fosse un termine e lanciarlo come un goal, cioè come un predicato. A rigor di logica, lo dico di nuovo, non si potrebbe fare perché, ripeto, quello che ho lanciato io era da intendersi essere un predicato, esempio 1. Questo esempio 1 che è stato prodotto con l'univ è un simbolo di funzione. Non si può fare, ma per motivi pratici alcuni interpreti prologue lo fanno e cioè consentono di fare un'operazione di questo genere. Costruire al volo un termine che assomiglia a un goal che assomiglia, sia sintatticamente identico a un goal di un certo programma e poi lanciamo quel goal così costruito. come se fosse un goal dato dall'utente del sistema. In effetti i programmatori per motivi pratici hanno pensato che questo, per lo meno un interprete sui prologue, fosse possibile farsi. Ma in realtà nel prologo originario non consentiva di fare questo e utilizzava per effettuare questa operazione cioè costruire goal come elementi strutturali come funtori e lanciarli come goal ci voleva, per far questo, un predicato specifico built-in che si chiama call che ovviamente ce l'ha anche lo swipe prologue che fa esattamente la stessa cosa. Però scritto così sembra in qualche maniera un pochino più accettabile perché quello che andiamo a fare è sostanzialmente creare una struttura sintattica che sarebbe il goal se noi lo lanciassimo e poi effettivamente lo lanciamo. Ma questo call in pratica cosa fa? Questo call fa partire un interprete del prologue che prende l'argomento come un goal. Poi nello swipe prologue e in altri interpreti prologue hanno pensato di farne a meno del call però vedendolo così sostanzialmente quello che andiamo a vedere è che in pratica, ripeto quella call fa partire un interprete del prologue allora il call stesso potrebbe essere visto come un primo esempio di un meta-interprete prologue o meglio non tanto il call ma un programma prologue come questo prova 1 qui a cui io passassi un certo goal di un certo programma che io ho precedentemente consultato sarebbe un meta-interprete un meta-interprete estremamente sciocco perché non fa niente di particolare lanciamo per esempio esempio 2 con questo meta-interprete se non lanciare goal fa quello che avrebbe fatto sostanzialmente prende l'interprete originario ma lui che cosa fa? prende come argomento un goal e l'interprete originario ma quel che c'è sotto più prende un programma che è il programma compilato esempio 2 in questo esempio che sto facendo prende quindi un programma esempio 2 oppure vediamo un altro esempio 3 però esempio 3 ha 3 argomenti e lo lancia in pratica non fa altro non fa altro che non fa altro che fare quello che fa l'interprete originario però lo fa in maniera meta nel senso che ripeto prende un goal prende un programma e prova a vedere utilizzando l'interprete prolog se quel goal segue da quel programma qui in questo caso ad esempio possiamo vedere che addirittura si è accorto che la computazione è deterministica il meta-interprete ma se se rendiamo la computazione non deterministica e lanciamo lo stesso goal come vedete mi consente di poter andare a vedere se ci sono altre soluzioni e mi offre anche le altre soluzioni insomma il meta-interprete si comporta esattamente come un interprete semplicemente non fa niente di particolarmente interessante quello che abbiamo appena visto ovviamente lo potevamo anche implementare questo nello swipe prolog in quest'altra maniera senza il call perché nello swipe prolog e in pochi altri si può fare a meno di mandare in esecuzione il goal costruito con la call basta mandarlo in esecuzione esattamente così come è stato sintatticamente scritto questo il meta-interprete prolog non fa niente di particolare però guardiamo quest'altro prova 2 è leggermente una struttura più complessa perché fa uso del applicato built-in close che abbiamo visto a suo tempo che richiamiamo brevemente il funzionamento se io lancio close che dovrebbe avere due argomenti la testa e la clausola mi va a cercare una clausola che abbia quella testa e quella clausola la testa deve essere istanziata per esempio andiamo a dargli esempio 1 e l'altro argomento deve essere il corpo della clausola e se c'è una clausola che corrisponde a quella testa istanzia la testa eventualmente anche delle variabili che ci siano nella testa sulla clausola trovata e restituisce al secondo argomento il corpo se il corpo non c'è e quindi la clausola con cui è amecciato con cui testa è amecciato è una clausola unica un fatto e il corpo restituisce true se invece la testa della clausola la testa il primo argomento che diamo a clausola è la testa di una clausola che ha un corpo magari con un solo predicato come qui nel caso di esempio 2 il corpo restituisce il la seconda argomento restituisce appunto il corpo della clausola in questo caso qui senza unificare senza unificarlo perché in questo caso c'era una variabile qui come argomento quindi la variabile che ho passato nella testa nel primo argomento del predicato built in close ha istanziato con x e non ha unificato con x e quindi non è stato istanziato e se invece io lancio il predicato built in close in maniera tale che vado a unificare con la testa di una clausola che ha più letterali nel corpo ovviamente non ha meciato perché non ho passato un sufficiente numero di argomenti quello che viene restituito nel secondo argomento è un'espressione fra parentesi in cui un'espressione logica in cui ci sono tutti gli atomi che appartengono al corpo della clausola con la cui testa ha unificato il primo argomento di close separati da virgole sapendo questo come funziona quindi questo predicato built in close noi possiamo andare a implementare un meta interprete un po' più articolato di quello assolutamente insignificante che abbiamo visto come primo esempio che cosa fa questo meta interprete allora suppone appunto che ci sia un interprete proprio là sotto e suppone anche che ci sia stato consultato un programma per esempio come esempio 1 esempio 2 esempio 3 che abbiamo visto finora e dicevo se l'argomento di questo meta interprete è true non fa nulla non c'è niente da provare se una cosa è vera se invece gli abbiamo passato un certo goal va a cercare se c'è nel programma consultato dall'interprete che c'è sotto una clausola che match con l'espressione che è stata passata qui come argomento se c'è una clausola che corrisponde al goal che abbiamo dato come argomento al meta interprete questo programma built in va a prendere il corpo della clausola e poi ricorre sul corpo della clausola se il corpo della clausola è true tutto finisce se il corpo della clausola ha un solo argomento si va a vedere se c'è una clausola che abbia quell'argomento come testa e quindi si ricorre sul corpo di quella eventuale clausola e quindi c'è una ricorsione che fa esattamente quello che fa l'interprete prologue normale se le clausole se i letterali nel corpo sono più di uno allora parte la seconda clausola la terza clausola del meta interprete prova 2 qui in cui il primo elemento viene preso in goal 1 il primo elemento della sequenza di letterali e in goal 2 i restanti letterali perché goal 2 viene a unificare con il termine che ha come il fontore principale la prima virgola a sinistra avrà il primo termine e a destra ci avrà i restanti termini strutturati sempre con il fontore virgola qualora ce ne fossero altri dopodiché si ricorre sul primo letterale cercando di provare il primo letterale dopodiché provato il primo letterale si tenterà di provare i restanti letterali cioè io posso ad esempio pensare di lanciare prova 2 dandogli esempio 1 e lei effettivamente mi lancia il goal esempio 1 e mi prova che esempio 1 segue dal programma originario se x unifica con il letterale unico e se io chiedo un risoddisfacimento mi dà errore perché questo meta interprete non è in grado di lavorare con i predicati built in close in questo caso non lo tratta facciamo il trace per capire cosa è successo allora lanciamo prova 2 dando il goal esempio 1 con qualcosa va a cercare una clausola che match con esempio 1 la trova esempio 1 unico e quindi body a questo punto è true e lancia body true body true cioè prova 2 true unifica con la prima clausola del meta interprete e quindi tutto funziona adesso se io però vado a cercare un'altra soluzione tenta di risoddisfare prova 2 con goal true e e quindi va a cercare di soddisfare close con goal true e li fallisce perché close non è stata pensata per gestire il predicato true quindi quello che possiamo adesso posso lasciare come esercizio è provare a modificare questo meta interprete media tale che sia in grado anche di risoddisfare trovare una soluzione per risoddisfacimento comunque effettivamente quello che stiamo vedendo è lo schema base per implementare un interprete prologue in prologue però quello che abbiamo appena visto non serve a granché uno più interessante potrebbe essere questo qui prova 3 che sostanzialmente ha la stessa struttura di quello che abbiamo appena visto solo che esplicita effettivamente il lancio di un gol quando ha il gol da provare ha un solo gol da provare effettivamente da un comunicazione del fatto che sta lanciando il gol poi prende il corpo e prova il corpo quando ha finito di provare il corpo di quel gol dà l'istruzione di uscita quindi se vogliamo vedere il funzionamento di questo meta-interprete lanciamo lo lanciamo e in pratica si è comportato come il precedente se fate il 3 vedete anche cosa servono questi due cut rossi e si è comportato esattamente come il precedente se non che ci ha detto che lanciava il gol esempio 1 con una qualche variabile e ci dice che effettivamente il gol esempio 1 è conseguenza logica del programma esempio 1 nell'ipotesi che quella variabile con cui l'abbiamo lanciato unifichi con la costante unico possiamo provare a lanciarlo anche con esempio 2 e quindi lancia esempio 2 il quale a sua volta lancia qui esempio 2 lanciava qui qui viene lanciato qui unifica con A e l'unificazione di qui con A fa sì che qui abbia successo la variabile di qui ha unificato con A questo fa sì che il gol qui con quella variabile ha avuto successo cosa che fa sì che abbia successo anche esempio 2 e ovviamente se adesso noi andiamo a a cercare un'altra soluzione ce la trova dunque vediamo anche prova 3 e c'è prova 3 con esempio 3 ecco qui ha lanciato esempio 3 il quale l'ha indotto a lanciare qui e qui ha avuto successo viene lanciato qua e qua ha avuto successo viene lanciato qua è avuto successo e quindi ha avuto successo esempio 3 e lì ci sono riportate anche le stanziazioni delle variabili quindi che cosa stiamo facendo e questo è un passo verso la realizzazione di un trace infatti il trace è implementato il trace è implementato stesso stesso in prologue sarà una rielaborazione di questo qualche cosa che somiglia a quello che stiamo per vedere adesso prova 4 prova 4 è un interprete leggermente un trace leggermente più approfondito di quello che abbiamo appena visto perché a differenza di quello che abbiamo appena visto gestisce anche il fallimento il risoddisfacimento e anche propone una indentazione della stampa in media tale da qui erano tutte indentate allo stesso livello qui invece teniamo traccia del livello di profondità delle chiamate di questo meta-interprete mediante questo contatore che viene incrementato questo incrementatore che calcola la profondità viene incrementato ad ogni prova di goal innestato viene incrementato di 1 se quando la ricorsione terminerà ovviamente ogni volta che si trova l'atomo true come abbiamo visto precedentemente però come vedete la struttura dell'interprete è la stessa che abbiamo visto dal secondo esempio che abbiamo appena visto questo qui serve solamente per inizializzare il lanciatore che serve per inizializzare la profondità dell'indentazione a zero e niente quindi lo possiamo lanciare per vedere l'effetto vabbè no invece è interessante vedere il come fa questo meta-interprete a gestire il risoddisfacimento lo gestisce perché in aggiunta a quello che faceva quello precedente qui c'è questo display che funziona nel caso di risoddisfacimento e quindi la prima volta questo display redo non deve fare niente infatti display redo la prima volta non deve fare assolutamente nulla ma se si torna per risoddisfacimento su display redo a causa di questo or qui verrà scritto sull'output mediante il pregato display che non fa altro che scrivere il messaggio che io gli passo viene scritto rilancio rilancio quindi un goal che non ha avuto successo quindi la prima volta display redo non fa niente se per risoddisfacimento si torna su di lui lui dice rilancio e passa il goal stesso con la profondità corrente vediamo l'effetto di prova 4 lo vediamo direttamente con l'esempio più complesso che abbiamo in esaminato finora che è esempio 3 ed ecco quello che avviene nel primo lancio dove tutto ha avuto successo non vediamo niente di particolare vi è lanciato esempio 3 che come nel caso precedente andiamo a rivedere ecco qui e fa esattamente quello che faceva il caso precedente e cioè lancia come vi ricordo lancia qui lancia qua e lancia qua ciascuno con la sua variabile quindi qui qua e qua hanno tutti quanti successo e quindi tutto tutto esattamente come prima ma se io vado adesso a fare il risoddisfacimento trovo un altro un altro quo trova mi ero dimenticato di toglierlo perché qui avevo messo un altro quo anzi un altro qui qui B quindi ho avuto successo con un altro qui se io provo di nuovo provoco di nuovo il risoddisfacimento però effettivamente riesco a farvi vedere quello che volevo far vedere e cioè che l'ultimo qua fallisce e quindi viene rilanciato ma non ci sono altri qua quindi prova a rilanciare anche qua ma non ci sono altri qua prova a rilanciare un altro qui ma qui l'aveva già rilanciato prima aveva trovato B non ce ne sono altri di qui perché qui ce ne sono due A e B e quindi fallisce anche il rilancio di qui quindi fallisce esempio 3 quindi abbiamo realizzato l'embrione di un trace e l'ultimo esempio di meta-interprete che porto qui in questa unità è un meta-interprete che è la base per sostanzialmente esattamente quello che abbiamo visto come primo esempio anzi come secondo esempio solo che mettiamo un secondo argomento in cui andiamo a restituire con questo meta-interprete un secondo argomento in cui andiamo a restituire la struttura dell'albero di prova e cioè lanciamo un goal lanciamo un goal prendiamo ovviamente il programma esempio 3 lanciamo il goal esempio 3 e ci facciamo restituire l'albero di prova come fa a restituire l'albero di prova è semplicemente che è tutto come come prima se non che abbiamo questo secondo argomento in cui se stiamo a livello true viene restituto true se stiamo a livello del singolo goal si va a prendere la clausola che abbia quel goal nella testa si prende il corpo e si restituisce una struttura che ha questo puntore principale definito qui come operatore in fisso con i due argomenti vabbè allo stesso livello di priorità goal e prova se invece i goal sono più di uno per esempio due prima si lavora sul primo goal e quindi si trova a prova 1 e poi si lavora sul secondo goal che può essere esso stesso fatto di due goal e quindi la questione diventa ricorsiva comunque a goal 2 verrebbe associata la struttura prova 2 quindi adesso lo lanciamo vediamo l'effetto eccolo qui abbiamo lanciato esempio 3 esempio 3 ha avuto successo ha istanziato le tre variabili alle costanti corrispondenti per qui qua e qua e qui nella struttura albero di prova abbiamo la struttura dell'albero di prova quindi il funtore principale è questo qui e questo era il goal che dovevamo provare e abbiamo innanzitutto provato che qui A era vero poi abbiamo provato che qui B era vero e poi abbiamo provato che qua C era vero quindi essendo tutto vero non abbiamo nient'altro a provare facciamo il risoddisfacimento e parte il trace perché il problema è che abbiamo questo true qui e il problema di prima cioè close non ci dà accesso a true anche qui sostanzialmente se avete risolto il problema se trovate modo di risolvere il problema che avevo accennato prima risolverete anche anche questo dunque l'unità didattica a questo punto è conclusa abbiamo visto la struttura base di un meta interprete prolog che è quella che stiamo vedendo adesso anzi per essere più essenziali è questa qui nella prossima unità didattica vediamo come utilizzare un meta interprete prolog per implementare il ragionamento abduttivo 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 abduttivo